Continuano gli eventi per celebrare i vent'anni di attività dell'Associazione Faentina SOS Donna. Il centro antiviolenza, nata a Faenza l'8 marzo 1994, oggi in grado di fornire un servizio di prima accoglienza a donne che si trovano in stato di difficoltà, festeggia questo importante traguardo anche in vista della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, in programma il prossimo 25 novembre, con una serie di iniziative a partire dalla presentazione di un volume che raccoglie vent'anni di materiale e testimonianze dal 1994 ad oggi. È una interessante selezione di alcuni articoli tratti dal Corriere della Sera che testimoniano un po' come in questi 20 anni si è evoluto o involuto o comunque modificato il linguaggio quando si parla appunto delle donne, in particolare sul fenomeno della violenza alle donne. Quindi è una sorta di, tra virgolette, autocelebrazione, forse ma più che altro serve per dare vita a quella che è la nostra attività che appunto è da 20 anni sul territorio come centro antiviolenza. Un'associazione che dalla sua nascita ha accolto 1700 donne in difficoltà e che solo nel 2014 ha registrato 152 contatti con l'intervento tempestivo in quattro casi d'emergenza. Facciamo un supporto per sia l'uscita dalla violenza dall'uomo dal ciclo della violenza agita dall'uomo maltrattante che di solito nella stragrande maggioranza dei casi è un uomo in relazione affettiva con la donna e lavoriamo anche sulla ospitalità mettendo appunto in sicurezza le donne e con i loro bambini che necessitano di questa ospitalità, di questa protezione. Una realtà che è possibile conoscere e sostenere partecipando ad una serie di iniziative a partire da domenica 2 novembre all'antica fiera di San Rocco durante la quale l'associazione sarà presente con uno stand. Martedì 18 novembre al Cinema Sarti con la proiezione gratuita di Precius, un film che nella sua drammaticità racconta stereotipi sulla donna sulla quale occorre ancora oggi riflettere per concludere martedì 25 novembre giornata mondiale contro la violenza sulle donne con la cena di beneficenza che si terrà al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza.